Mercoledì 31 maggio, buongiorno, ben ritrovati, la rassegna stampa di Nettuno TV e Radio Nettuno. Siete collegati per quanto riguarda la radio sui 97 MHz. Nettuno TV la trovate sul canale 99 del Digitale Terrestre, ma raggiungibile anche tramite internet www.nettunotv.tv. Quotidiani che già vediamo in prima pagina per quanto riguarda il resto del carlino. Poi andremo sul Corriere di Bologna, su Repubblica per completare la pagina locale. Parleremo di sport ovviamente, la bella notizia riferita al basket di Sponda Virtus. Virtus che si aggiudica anche gara 2 dei playoff e questa sera tocca alla fortitudo tentare il riscatto in quel di Trieste. Dopo la sconfitta partita in gara 1 di calcio ovviamente se ne parla meno. Adesso il tema principale diventa quello del calcio mercato, quindi ogni giorno rumors vari che andremo comunque a seguire in attesa di conferme. Poi ci sono le nostre interviste, i nostri approfondimenti che fanno parte del lavoro giornalistico del giorno precedente. In questo caso vi ricordo i due telegiornali quotidianamente da lunedì alla domenica, 13.15 e 19.15, i punti ora nei quali tutta l'informazione locale trova spazio su Nettuno TV. Informazione locale che andiamo a vedere dal resto del carlino. Virtus Fortitudo al Dallara, il Rebus e il live di Tiziano Ferro. Il concerto è in programma il giorno dopo l'eventuale gara 5 di finale. Armadietti svuotati nel centro di via Marzabotto si lavora per riaprire a luglio. Oggi chiude il CRB, spunta l'ipotesi di una nuova gestione. E poi il tocco di Re Giorgio. Siamo nella prima pagina del resto del carlino con questa fotografia che mostra Armani e questa nuova apertura. Emporio Armani Caffè e Ristorante sbarca in Galleria Cavour. Lo stilista che dice Bologna è una meta turistica importante. Sono orgoglioso di questa apertura. E poi andando ai temi di cronaca, nei guai una 52enne si fingeva avvocatessa, ma era solo laureata a sottratti 140 mila euro. Il sindaco Mero Lamuso Duro con i consiglieri e con un cittadino, questo è il riassunto della giornata di ieri del sindaco di Bologna, estate arriva il guasto village cibo e arte antidegrado. Come sarà? Largo Respighi. Igor se ne parla nuovamente, cola a picco un drone, svaniti nel nulla 10 mila euro. L'arma che dice ma la caccia continua senza sosta. Dopo lo scontro in aria con un volatile si è perso appunto questo drone del valore di 10 mila euro. Dal resto del carlino passiamo ora al Corriere di Bologna. Cancelli e guardia, l'estate del guasto, alleanza sindaco comunale per la zona universitaria, occupiamo gli spazi in modo virtuoso. Per risolvere il problema infinito del degrado della zona universitaria su cui hanno sbattuto tutte le amministrazioni, il comune gioca l'ultima carta, l'occupazione pacifica della zona. Per tre mesi e mezzo, dal 15 giugno a fine settembre, l'area delimitata da Largo Respighi, via del Guasto e Piazza Verdi, oggi in mano allo spaccio, verrà chiusa e sorvegliata da vigilantes privati e tutti i giorni ospiterà una cittadella con 10 container all'interno dei quali saranno allestite birrerie, mostre d'arte, bistro biologici, un'edicola con editori indipendenti e sarà aperta, in questo caso, fino a luna di notte. La foto simbolo, i resti della serata sulle sedute antiche, in questa fotografia che trovate nella prima pagina del Corriere di Bologna. Vincoli, inciviltà, regolamenti, Palazzo Bentivoglio, tutti contro i cartoni, ma è vietato vietare, scrive Fernando Pellerano. E il covo accoglie gratis i residenti di San Donnino, farà fede la residenza. Altro tema di prima pagina, Merola Consiglieri PD, ora lo scontro è totale, meschini traditori. Palazzo da Cursio, dice da adesso, riunioni in streaming. La nuova segreteria Renzi ha scelto Ricchetti e Rossi e Imola ospiterà la festa nazionale. Il caso, l'arcivescovo e i risarcimenti saltati, strage, zuppi al governo, dice inaccettabile. Ci sono ritardi che sono inaccettabili e fastidiosi, in certi casi lo sono ancora di più, per la sofferenza che non viene capita e che viene diminuita. Il vescovo Matteo Maria Zuppi contesta l'esclusione dalla manovra estiva del governo dei risarcimenti per i familiari delle vittime del 2 agosto. CRB, siamo all'ultimo atto, ecco i conti del club, oggi chiude il circolo, il comitato anti-supermercato protesta e nelle pagine del Corriere di Bologna ci sono i numeri della crisi sconfitta Ravenna 83-74, il tema va al basket, la Virtus non fa sconti, la semifinale è sul 2-0. Questo per quanto riguarda il Corriere di Bologna, pronta anche la prima pagina di Repubblica, la ricetta del sindaco per Piazza Verdi, Cibo, Arte e Vigilantes, il programma del Guasto Village dal 15 giugno. Sul degrado in quella zona non voglio mollare, comitati già sulle barricate, siamo sconcertati. La polemica nel PD dei meschini perdenti, l'ira di Merola sui consiglieri. L'ospedale immaginato dai piccoli di oncologia è un altro tema di prima pagina, i disegni come terapia in questo caso. 2 agosto anche Zuppi non perdona, il vescovo inaccettabile, il mancato risarcimento. Anche su Repubblica si parla della Virtus ovviamente. La Virtus vola, Ravenna KO, finale vicina, stasera la F. Il calcio, un pamplè per chiedere lo scudetto del 1927, tema che è tornato di strettissima attualità, tanti anni di distanza. Bosso racconta ai bambini l'armonia della Costituzione, i miei primi 2 giugno in questo libro, la copertina del libretto appunto sul 2 giugno. Su Repubblica vediamo anche le brevi, riparte kilowatt alle serre, tre mesi di musica al verde, poi sul sito l'Alma Mater, laurea i caduti del 15-18 e infine sempre su temi estivi, cuori e timpani indie, il Covo Summer è per voi. Ci fermiamo per quanto riguarda l'esposizione dei quotidiani perché è tempo di vedere il primo dei nostri servizi, relativo alla giornata di ieri per quanto riguarda l'arcivesco Monsignor Matteo Zuppi che ha chiamato a raccolta tutta la città di Bologna. Una gora aperta a tutti, credenti e laici, in una basilica di San Petronio arredata come se fosse una piazza con tanto di tavolini e sedie disposte a semicerchio davanti al palco, allestito al centro della Chiesa. Così è stata pensata l'Assemblea diocesana convocata per il prossimo 8 giugno in occasione dell'anno del congresso eucaristico diocesano 2017 che culminerà con la visita di Papa Francesco a Bologna, naturalmente si parla del primo ottobre. L'intervista all'arcivesco di Bologna curata dal nostro direttore Francesco Spada. Aperta a tutti, come è stato giustamente sottolineato, fin dall'inizio l'abbiamo voluta come un confronto in cui soprattutto la comunità cristiana, ma i tanti che hanno a cuore il bene della nostra città, si confrontano con la situazione così com'è, con le sfide che dobbiamo affrontare, con il futuro che dobbiamo cercare, il futuro non viene se non scegliamo oggi e credo che c'è da ascoltare e da dire ed è appunto il dialogo, il senso dell'Assemblea. Cosa ci si deve aspettare? Chi verrà? Cosa deve aspettarsi? Ma io credo tanto in molta gioia, gioia di incontrarsi, di incontrarsi in un luogo così importante e significativo per la storia di Bologna che è San Petronio, da sempre anche il luogo civico, identitario di tutta la città e di chiunque, al di là di qualunque appartenenza, proprio dell'essere bolognesi. Si deve aspettare di guardarsi, di capirsi, di riascoltare le sfide, di capire forse ancora di più le sfide, anche di ascoltare punti di vista diversi, ma che se sono nella stessa direzione ci aiutano tutti quanti, cioè se sono nella direzione di questa casa comune non fanno altro che bene sia ai credenti che chi ha soltanto a cuore l'umanità, ma è questa la preoccupazione che ci unisce. L'Assemblea di Ocesana sarà un confronto con cui la Chiesa di Bologna vuole mettersi in ascolto e in dialogo con tutti coloro che hanno a cuore il bene comune. Nostro ospite nel telegiornale di ieri, nell'edizione delle 13 e 15, Stefano Tani, vicario generale sinodalità, intervistato anche in questo caso dal nostro direttore. Un'Assemblea di Ocesana che è una novità, perché non si è mai fatta una convocazione della Chiesa e della città di Bologna, ma penso che proprio per questo esprima bene quello che vuole essere il nuovo atteggiamento della Chiesa di Bologna nei confronti della città, nei confronti della storia, in linea con la proposta complessiva che viene dall'Episcopato dell'attuale Arcivescovo Matteo Zuppi e mi auguro che davvero possa essere colto in questa novità che è espressione dell'invito che la Chiesa rivolge a tutti coloro che hanno a cuore il bene comune di mettersi davvero a servizio per che, come dice il titolo del congresso eucaristico 2017, possiamo davvero noi stessi dare da mangiare a questa grande folla che abbiamo davanti. Monsignor Dottani, è vero che all'Arcivescovo Zuppi gli avete dovuto spiegare un po' i congressi eucaristici a Bologna negli anni 7? Sì, è stata proprio la sorpresa che si è stampato sul suo volto che ci ha fatto capire che i congressi eucaristichi sono una caratteristica in qualche modo unica della nostra chiesa di Bologna. Ho ancora presente proprio la sua sorpresa quando abbiamo cercato di spiegare che in tutti gli anni 7 a Bologna si celebra il congresso eucaristico diocesano e ricordo che proprio lui disse il congresso eucaristico a Roma è da Papalino che non si celebrano, tenendo presente che Papalino è l'immediato successore di San Pietro come Papa, come Vescovo di Roma. Abbiamo tema, prima di tornare sui quotidiani, in particolare anche sullo sport, è una iniziativa che si è stata ieri in Piazza Maggiore, c'erano anche le nostre telecate. La maggiore consapevolezza è fondamentale perché in realtà non c'è bisogno, non necessariamente deve essere inviata telematicamente da soli, meglio sarebbe, però anche attraverso i sistemi tradizionali, i CAF, gli intermediari, però avere consapevolezza di che cosa si sta inoltrando secondo me è fondamentale per tutti i cittadini, sapere che cosa si sta dichiarando e questo credo che in qualche modo riusciamo a fornirlo a chi verrà nel corso di questi due giorni nel nostro sportello volante. L'utilizzo massivo della precompilata secondo me è utile un po' per tutti, quindi ci aspettiamo. L'anno scorso infatti c'è stato un incremento dell'utilizzo della precompilata e penso che anche quest'anno ci sarà un aumento ancora maggiore, perché è un tantamma, man mano che le persone cominciano a conoscerla poi danno l'indicazione anche agli altri della semplicità nell'utilizzo e noi siamo qui per dire guardate questo è il modo per utilizzarlo. La prima cosa poi è avere il pin code, quindi anche qui vengono rilasciati i pin code per accedere al sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il fisco, come avete sentito, con l'Agenzia delle Entrate in primo piano, grazie al camper nelle piazze maggiore a Bologna ieri e oggi. Con il quest quotidiano sportivo, inserto del resto del calino, andiamo a parlare di basket, avanzata Virtus, basket playoff di A2, mette al tappeto ancora Ravenna la Virtus, 83-74 il finale e ora vede da vicino la finale. Venerdì c'è gara 3 a Forlì e può chiudere in anticipo la serie. Poi si parla della Fortitudo, questa sera si gioca alle 20, la Fortitudo cerca riscatto a Trieste, Bonnicioli punta sul Play Marchetti, vi ricordo che naturalmente questa sera saremo collegati sia per la pagina sportiva dalle 18 alle 19 che naturalmente per l'ampio pre-partita e il altrettanto ampio post con quel di Trieste, dove il nostro Giacomo Bianchi sarà la voce ufficiale della nostra radiocronica in esclusiva di Radio Nettuno. L'intervista il patron dell'Ella, Sex Bologna, Setti, Tifa per il Carpi, sarebbe bello se venisse in Serie A come mio Verona. Ha centrato la terza promozione con i Veneti, Toni è una bella persona, ha saputo a grandi progetti per il Rosso Blu, questi due ambiti dell'intervista. Verdi, Masina di Francesco e Nogi, il club punta su di loro per il futuro, ecco gli incedibili, Verdi è il talento su cui punterà Donadoni per il salto di qualità, si va a parlare anche di MotoGP, il dottor Rossi non si arrende, domani sarà alle prove del Mugello, nonostante la caduta e il ricovero in ospedale. Giovane Italia al primo test, la FGC tenta Maldini, l'ex Milan team manager, questo è l'interrogativo, l'amichevole è quella con San Marino. Apriamo anche la nostra carrellata di temi nazionali, c'è Repubblica inquadrata, patto, PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, subito legge e voto, Renzi basta con i veti dei piccoli partiti, gli alfaniani imbroglione, noi restiamo con il governo, Padoan avverte, i nostri conti dipendono da Unione Europea e mercati, difficile modernizzare sotto le elezioni. Il caso Ilva, sindacati in trincea, con l'arrivo dei privati, 6 mila posti in meno, calenda, la gara è chiusa. E poi Guerra, l'ultimo segreto, scusate Guernica, l'ultimo segreto di Picasso, José, Luil, Galicia, amico e confidente, così riportammo il quadro in Spagna. Dieci ragioni per spiegare i Beatles ai nostri figli, si parla naturalmente di musica in questo caso e sempre in ambito culturale, bosso, credo, nella musica che ci guarisce da tutti i mali. Soldi a Barbareschi, la rivolta dei teatri, manovra, fondi ad personam, un altro dei temi di prima pagina del Quotidiano Repubblica che ora lasciamo per il Corriere della Sera, legge elettorale, l'accordo c'è, Renzi, modello tedesco con soglia al 5%, tensione sul voto anticipato, intesa PD Forza Italia dopo il sì del Movimento 5 Stelle, Alfano Moderati Uniti, Pado Antimori per le riforme. Poi Ebono riabilita Bush, in Africa Salvato Vite, il leader degli U2 in visita all'ex presidente lottò contro l'AIDS e sono ritratti in questa fotografia in Texas. Il piano dell'ILVA esuberi per 6.000, stop dei sindacati, incontro al Ministero. I temi di prima pagina diventano ora quelli del resto del Carlino, i due temi locali nella pagina del Quotidiano Nazionale, Virtus, Biscon, Ravenne adesso vede la finale, basket playoff, la fortitudo ritenta questa sera a Trieste, la truffa si finge avvocata e in tasca 140.000 euro, più avanti naturalmente andremo a leggere nel dettaglio anche quella notizia. Poi sbarrati si parla di legge elettorale, patto PD 5 Stelle Forza Italia e Lega sul modello tedesco, riforma il voto in luglio, sbarramento al 5%, via i partitini, establishment contro le urne, oggi Draghi in Banca Italia. L'inchiesta del Quotidiano Nazionale, il nuovo spaccio, farmaci come droghe, tra rete e fai da te, il far west dello sballo. Leader canadese, tutti pazzi per Trudeau, il premier, Jack Lemur. Superconcerto, Arianna and Company, le pop star contro l'Isis in un concerto a Manchester Teatro del devastante attentato. Questo in visione è il giornale Casa di Monte Carlo, da Napolitano a Saviano, tutti i complici di Fini definivano il giornale macchina del fango, chiedono scusa e il giudice insiste su Sallusti, imputato per errore. La TV è cattiva, scendo in politica, caro Insin, non sai che pacco hai scelto. Questa è la parabola del conduttore. Accordo PD Forza Italia, si va a votare, tra parentesi, nonostante al fanno, scrive il giornale, legge elettorale entro il 7 luglio. Guerra sui vaccini, Ministero denunciato, minacce di morte all'immunologo Burioni. Bimbo stroncato dall'Ottite, la telefonata al 118, non dategli farmaci. Il Codacons contro la Lorenzini. Infine, quella fuga, 13 anni per rivedere mamma, la piccola adottata, fa 80 km da Siracusa a Paternò. Ancora quotidiani, siamo su avvenire adesso, la legge elettorale è sotto l'ombrellone, accordo per luglio, Renzi il voto è democrazia, cresce il consenso sulla riforma, ma il PD si divide sulle elezioni subito, gentiloni, abbiamo pieni poteri, Padoan, così difficile cambiare. Passati e respinti a 20 miglia, emergenza minori, non accompagnati, migranti, terza estate di accoglienza. L'Ilva rinasce ma già brucia 5.000 esuberi, i sindacati parlano di piani inaccettabili nei progetti presentati da entrambe le cordate, pesanti, taglia i posti di lavoro, scrive a venire. Il Ministero dello Sviluppo Economico tenta la mediazione, intanto Acciai Italia approva un rilancio, in realtà non consentito dalle regole, per recuperare il rispetto a AM Invest Co, che è stata scelta dai commissari per prendere il controllo dell'azienda, ma ancora non ha avuto l'aggiudicazione ufficiale da parte del Governo. Dal quadro di avvenire a quello del quotidiano di Torino, la stampa, Renzi il candidato premier Saroio, sia al sistema tedesco, anche se non era la nostra idea, intesa per votare la legge elettorale il 7 luglio. La direzione PD approva la proposta, astenuti 33 orlandiani, Alfano che dice aggregherò il centro e supereremo il 5%. La caccia al petrolio spaventa le balene, bombe nel santuario dei cetacei Sardegna, Corsica e Monte Carlo alleate contro questo progetto e in questa fotografia una balena al largo del Mar Ligure, le esplosioni possono provocare danni all'udito e al sistema immunitario di questi grandissimi animali. Grandi manovre di Angela Merkel per isolare Trump al summit del G20, si parla del duello Stati Uniti-Germania e poi il nepotismo imbarazza anche Macron e infine i 29 ragazzi all'assalto di Cupertino, gli italiani scelti da Apple, il più piccolo ha 15 anni. Chiudiamo la nostra carrellata prima di fare un passaggio in pubblicità con Libero, come fossero spazzatura, buttano via i bambini. Neonato, abbandonato in strada, muore ogni anno, sono 400 i piccoli scaricati ma nessuno si scandalizza. Garantire alle coppie uomo di fabbricare i figli sfruttando il corpo delle donne ci preme più che salvare creature innocenti. Vacanze romane e balneari, la dolce vita del migrante nero in questa fotografia. A fini tremano le manette, l'inchiesta sul riciclaggio e ancora, sempre sulla prima pagina di Libero, pur di votare Renzi sfascia PD e governo, ottimo, la sinistra Dem prova a slittare le urne ma non ha i numeri, lo sbarramento al 5% non si tocca, scaricato Alfano, suggellato l'accordo Matteo Silvio Grillo, elezioni, si parla del 24 settembre. Ma facciamo, come detto, il nostro break pubblicitario, a rientro tema per tema, ancora a parlare di Bologna. State con noi. Rivediamo insieme, ben ritrovati, la rassegna stampa di Nettuno TV e Radio Nettuno. Dicevo, rivediamo insieme la prima pagina del resto del Carlino, Virtus Fortitudo al Dallara, un tema lanciato dal Presidente Muratori, il Rebus e il live di Tiziano Ferro. Il concerto in programma il giorno dopo l'eventuale gara 5 di finale, armadietti svuotati nel centro di via Marzabotto, si lavora per riaprire a luglio, oggi chiude il CRB, spunta l'ipotesi di una nuova gestione. Poi, novità per Bologna, il tocco di Re Giorgio, Emporio Armani Caffè e Ristorante, sbarca in Galleria Cavour con lo stilista che dice Bologna è una meta turistica importante e sono orgoglioso di questa apertura. Nei guai una 52enne si fingeva avvocatessa ma era solo laureata, sottratti 140 mila euro. Lasciata la toga, la donna è stata indagata e perquisita. Il sindaco Mero Lamuso Duro con i consiglieri e con un cittadino, estate arriva il guasto village, cibo e arte antidegrado. Infine Igor colapicco un drone, svaniti nel nulla 10 mila euro, dopo lo scontro in aria con un volatile, l'arma che dice ma la caccia continua senza sosta. Il quadro ora diventa quello del Corriere di Bologna, Cancelli e Guardi all'estate del guasto. La novità nascerà un villaggio, tra virgolette, con container tra cibo e arte, poi concerti di bosso. Sbarrato l'accesso da Piazza Verdi, alleanza sindaco comunale per la zona universitaria, occupiamo gli spazi in modo virtuoso. Vincoli, inciviltà, regolamenti, scrive Fernando Pellerano, Palazzo Bentivoglio, tutti contro i cartoni, ma è vietato vietare. Farà fede la residenza e il covo accoglie gratis i residenti di San Donnino, altro tema di prima pagina. Mero, la consiglieri PD, ora lo scontro è totale. Meschini, traditori, devo prendere atto che è impossibile avere riunioni riservate con il gruppo senza che l'esito venga immediatamente divulgato. Vorrà dire che d'ora in poi parteciperò solo se saranno diramate via streaming e così almeno anticiperemo i tempi. Ecco lo sfogo durissimo del sindaco Virginio Merola, che arriva a definire meschini, perdenti e traditori, quei consiglieri che hanno parlato con la stampa e raccontato com'è andato l'incontro che aveva come oggetto lo spostamento della cittadella giudiziaria dell'ex caserma Stamoto. Il capogruppo Claudio Mazzanti definisce deficienti i consiglieri chiacchieroni. Quindi toni davvero saliti alle stelle su questo tema nella mattinata di ieri. Renzi ha scelto Ricchetti e Rossi e Imola ospiterà la festa nazionale, scrive sempre il Corriere di Bologna. Due emiliani entrano nella nuova segreteria nazionale del PD. Sono il modenese Matteo Ricchetti e Reggiano Andrea Rossi e Imola ospiterà la festa nazionale del PD nel 2017. L'ha detto Matteo Renzi ma dalla segreteria nazionale spariscono i bolognesi che la scorsa volta erano addirittura quattro. Strage Zuppi al governo, inaccettabile, ci sono ritardi che sono inaccettabili e fastidiosi, in certi casi lo sono ancora di più per la sofferenza che non viene capita e che viene diminuita. Il vescovo Matteo Maria Zuppi contesta l'esclusione dalla manovra estiva del governo dei risarcimenti per i familiari delle vittime del 2 agosto. Sempre dalla prima pagina del Corriere di Bologna, poi CRB, ultimo atto, ecco i conti del club, oggi chiude il circolo. Il comitato anti supermercato protesta e i numeri della crisi vengono riportati appunto anche dal Corriere di Bologna. Altro quotidiano della nostra città, Repubblica, già in visione, la ricetta del sindaco per Piazza Verdi, Cibo, Arte e Vigilantes, il programma del Guasto Village dal 15 giugno. Sul degrado in quella zona non voglio mollare, comitati già sulle barricate siamo sconcertati, dicono. La polemica nel PD dei meschini perdenti, l'ira di Merola sui consiglieri. E poi una bimba disegna nel reparto di oncologia del Policlinico, in questa fotografia di prima pagina su Repubblica, l'ospedale immaginato dai piccoli di oncologia. 2 agosto, anche Zuppi non ne perdona, il vescovo inaccettabile, il mancato risarcimento. Politica PD, la festa nazionale si farà a Dimola, il sindaco Manca che dice grazie Renzi. Il basket, la Virtus vola Ravenna KO, finale vicina, stasera tocca alla F. Parlando di calcio, un pample per chiedere lo scudetto del 1927, l'articolo a firma di Simone Monari, Bologna, storia di un'ingiustizia. Il titolo del libro di Carlo Chiesa, che uscirà la prossima settimana, è dedicato allo scudetto del 1927, vinto dal Torino davanti al Bologna, revocato e mai assegnato, in questo caso, ai Rosso Blu. I miei primi due giugno, BOSSO racconta ai bambini l'armonia della Costituzione. Pronti ora a cambiare tema, si è concluso con ottimi risultati il progetto Carabiniere per un giorno, dedicato alle classi terze e quarte superiori, per la sensibilizzazione alla sicurezza in strada. A spiegarci il motivo principale dell'iniziativa è stato il dirigente dell'ufficio quinto ambito territoriale di Bologna, Giovanni Schiavone, intervistato, in questo caso, dalla nostra Eleonora Monari. Vediamo insieme. Comprendere l'importanza del rispetto delle regole, su come muoversi sulla strada, su come attrezzarsi per guidare un mezzo che sia una bicicletta, una moto, uno scooter, una macchina in modo sicuro, cosa non bisogna fare, alcolici, droghe e quant'altro, e perché devono capire, devono sperimentare, devono poter verificare cosa succede qualora non rispettino le regole. Questo ha lo scopo, insomma, questo progetto specifico. Ma soprattutto l'altro obiettivo che ha questo progetto è di avvicinare i giovani alle forze dell'ordine, capire cosa fanno, perché si mettono nei loro panni, si sono messi 320 ragazzi, 320 studenti delle classi terze e quarte delle superiori, di 13 classi, si sono messi nei panni dei carabinieri, hanno fatto loro i controlli e hanno capito quale importanza ha svolgere questo lavoro, sempre nella prevenzione di danni, di guai che possono capitare quando le regole non si rispettano. Comprendono chi sono i rappresentanti delle istituzioni, quale ruolo svolgono e non li vivono più come controparte, come nemici, ma come amici. L'obiettivo è questo fondamentalmente, come coloro che si prendono cura di tutti, dei cittadini e dei ragazzi in particolare. Ma sentiamo ora anche il punto di vista del Comandante dei Carabinieri Valerio Giardina che ha seguito il progetto all'interno delle caserme. Educazione e cultura della legalità, che sono gli aspetti che più di tutti ovviamente in ossegue a quelle che sono indicazioni del nostro Comando Generale, noi tendiamo ad offrire nei contatti costanti e continui che abbiamo con i dirigenti scolastici e l'occasione che ci ha dato ovviamente l'osservatorio e la Regione mia Romagna è stata per noi un'occasione importante, un'occasione d'oro proprio perché attraverso questa parte di educazione di fatto abbiamo avuto la possibilità di approcciare i giovani. È sicuramente un'esperienza che noi vorremmo rifare e i miei ufficiali che hanno seguito i corsi sono rimasti entusiasti. Per noi è stato un motivo di comprendere ancora di più il mondo giovanile. Noi utilizziamo queste esperienze anche per altri aspetti che riguardano proprio il mondo della scuola e per ultimo ricordo anche l'operazione che abbiamo fatto al Pilastro con l'arresto di cinque minorenni meglio noti come la Baby Gang dove di fatto al di là degli aspetti contestati e sono ora ovviamente al vaglio dell'autorità giudiziaria, sono appunto gli aspetti educativi e principi appunto sui quali bisogna tutti insieme con le scuole e con gli enti locali fare ovviamente riuscire. Uno dei temi ricorrenti diciamo così dei quotidiani di oggi è relativo alla lotta al degrado, un'estate al Guasto Village, queste sono le pagine del resto del Calino, la pagina 9 per la precisione, un'estate al Guasto Village fra mostre d'arte, cibo e cocktail bar dal 15 giugno al 30 settembre la zona universitaria si trasforma. L'articolo è di Paolo Rosato, l'aveva preannunciato tempo fa a Merola all'ombra delle stanze di Verdi nel novembre scorso, ci allargheremo fino ai giardini del Guasto per riqualificare tutta l'area e il progetto completo è arrivato sette giorni su sette dal 15 giugno al 30 settembre dalle 18.30 all'una senza ordinanze anti-alcol ma con tanta bella gente pronta a capovolgere il destino di un angolo vessato dal degrado. L'operazione Guasto Village coinvolgerà anche i vicini Largo Respighi e Piazza Verdi, sarà una rassegna all'insegna dell'arte, della cultura, dell'intrattenimento e della ristorazione di qualità inserita nel cartellone estivo BEST e collegata con il progetto ROC e ieri su questo tema è intervenuto ancora il sindaco Virginio Merola, vediamo insieme. Siamo determinati a intervenire su Piazza Verdi dal principale ingrediente, la qualità dell'offerta culturale, della gastronomia e delle attività artistiche per cui il teatro comunale sarà il gestore, il promotore di Guasto Village, un insieme di container come si fa nelle principali città europee che sarà un'occasione di intrattenimento per tutti i cittadini fino a luna di notte. È un'iniziativa importante, ci sono anche però tutte le iniziative disseminate sulla via Zamboni che presenteremo nei prossimi giorni insieme al Rettore, tutta la via Zamboni diventa una specie di distretto estivo dedicato alla cultura e al buon intrattenimento. La Prefettura ci assicura la cornice adeguata per quanto riguarda la presenza delle forze dell'ordine e la collaborazione con la Polizia Municipale inizia una battaglia di lungo periodo, questa è la prima estate, noi siamo determinati a occupare lo spazio pubblico con i cittadini che hanno voglia di vivere una vita normale e di divertirsi normalmente. Sicurezza partecipata, cultura, lotta al degrado e lotta allo spaccio che hanno un ingrediente principale, occupare lo spazio pubblico con noi cittadini che vogliamo invece vivere la bellezza della città. In riguardo a Piazza Verdi, ad esempio ieri c'è stata un'iniziativa da partire dalla scuola Zamboni che ha visto una festa dei bambini in piazza con maschere e giochi e c'era la presenza della Polizia, ovviamente comunque la situazione era tranquilla e la festa è stata un successo e questo è già positivo per Piazza Verdi. Sì, evidentemente è stato un evento eccezionale nella situazione data perché la presenza della Polizia ha garantito che i nostri bambini fossero tranquilli. Però l'idea di fondo è quella, occupare tutti gli spazi con più iniziative possibili, sia educative che artistiche che di intrattenimento e quindi fare in modo che anche con la parte della città, attraverso la qualità dello spazio pubblico e dell'offerta culturale, cambi tipo di pubblico. Vediamo nel dettaglio le pagine del resto del Callino. Giù il sipario su 30 anni di CRB, ma già si pensa alla riapertura, oggi chiude la struttura, intanto Maccaferri lavora sulla nuova gestione. Il tema eventuale finale tra Virtus e Fortitudo allo stadio, ecco qui l'argomentazione di pagina 3 del resto del Callino, Tiziano Ferro minaccia il derby al Dallara, il concerto e il giorno dopo la possibile gara 5, quindi non ci sarebbe il tempo materiale dell'allestimento del megapalco. Meglio giocare al Paladozza, i tifosi, entrambe le fazioni bocciano l'idea del trasloco, essere allo stadio non porterebbe il solito calore, dicono i tifosi da una parte e dall'altra. I consigli dei carabinieri ci aspettavamo di più, il tema di pagina 4 del resto del Callino torna alla caccia ad Igor, in modo particolare alla riunione delle forze dell'ordine con i cittadini e i sindaci, perplessità ma anche apprezzamento fra i cittadini, il sindaco Pierini che dice parlare di cosa fare quando si ha di fronte una persona armata è un modo per dare rassicurazione. Igor, ci si mette pure la sfortuna, un drone abbattuto da un volatile, l'apparecchio da 10 mila euro è precipitato nelle paludi di Campotto, si spacciava per avvocatessa, abbiamo letto di questa vicenda anche in prima pagina e si è intascata oltre 140 mila euro perquisita professionista che si occupa di infortunistica. La donna, 52 anni, nel primo fascicolo ha già ricevuto l'avviso di fine indagine, mentre la seconda inchiesta è alle fasi iniziali. Detto dell'estate al Guasto Village, parliamo di un'altra arrabbiatura del sindaco, fuga di notizie dal gruppo del PD, Mero la fa il grillino e attacca tutti. Stamotto accuse ai consiglieri DEM meschini, ora riunioni in streaming, poi dopo il break pubblicitario andremo a riprendere anche questo servizio relativo allo sfogo appunto del primo cittadino di Bologna avvenuto in conferenza stampa ieri. Così la città è al centro di una geografia fashion, Martina Liverani di Dispensa parla di un bel regalo, si parla di Giorgio Armani, re dello stile, che ha aperto in Galleria Cavour il nuovo Emporio Armani Caffè e Ristorante ed è il secondo in tutta Italia. Bologna è una meta importante e orgoglioso di questa presenza, Giorgio Armani apre l'Emporio Caffè e Ristorante in Galleria Cavour, uno dei luoghi più significativi dello shopping cittadino. L'equilibrio tra locale e internazionale per noi è vitale, da qui la scelta diciamo così di questo salotto. I soldi per la Bolognina finalmente i negozianti vogliono sentirsi al sicuro, plauso unanime dei commercianti allo stanziamento in questo caso di 100 mila euro. Prima del break pubblicitario entriamo anche nelle pagine della provincia, sempre dal resto del Carlino, il dolore del papà di Alberto, ingiusto a sopravvivere alla morte di un figlio, si parla del terribile schianto di Minervio, lo strazio dei genitori del diciottenne. Era uscito dal lavoro e ci ha lasciato mentre stava tornando verso casa. Corrieri, rimanendo alla cronaca delle strade ma qui in termini di controlli, corrieri della droga arrestati in A1 nell'auto trovati 314 grammi di cocaina, oltre a 6 mila euro come vi abbiamo riferito. Ci fermiamo, break pubblicitario, al rientro naturalmente ancora tema per tema a parlare di Bologna. State con noi. Nuovamente insieme a reti unificate, diciamo così, Nettuno TV e Radio Nettuno in rassegna stampa. Ben ritrovati e buon proseguimento di giornata, una giornata che si apre alle 7 del mattino e arriva fino alle 8.30 in rassegna stampa su Radio Nettuno. Proseguiamo invece anche in seconda parte di mattinata con Nettuno TV. Quotidiani, andiamo a ripercorrere solo i temi principali, Virtus Fortitudo al Dallare, il Rebus e il Live di Tiziano Ferro, scrive il resto del Carlino. Sui temi, diciamo così, di cronaca, Igor cola picco un drone svaniti nel nulla 10 mila euro dopo lo scontro in aria con un volatile. E ancora nei guai una 52enne si fingeva avvocatessa ma era solo laureata. Sottratti 140 mila euro. Cancelli e guardi all'estate del guasto è il tema di prima pagina del Corriere di Bologna, alleanza sindaco comunale per la zona universitaria. Merola, consiglieri PD, ora lo scontro è totale, meschini traditori. Tra un istante andremo a risentire proprio le parole del sindaco di Bologna. La ricetta del sindaco titola Repubblica per Piazza Verdi, cibo, arte e vigilantes. E poi ecco qui la polemica. Nel PD dei meschini perdenti l'ira di Merola sui consiglieri, come vi annunciavo. Andiamo ora a riprendere proprio questo passaggio del primo cittadino di Bologna. E' ironico fino a un certo punto, diciamola così. No streaming, no gruppo con il sindaco. Ah, adesso li farete solo con la diretta in streaming? Per quanto mi riguarda sì, perché qualche persona, che non sto parlando di tutto il gruppo, c'è qualcuno che fa di queste iniziative, è un maleducato, è uno scorretto, è un perdente, non ci mette la faccia. Quindi io non sono disponibile a far anticipare notizie da uno che tradisce la lealtà rispetto a tutti gli altri del gruppo. Guardate, è una questione proprio di senso civico. Mi dispiace che ci sia questo problema in alcuni consiglieri comunali, ma no streaming, no gruppo. Non c'entra un tubo la fiducia, qui c'entra l'educazione. Ok? Quindi a me non mi prendete in giro. Ok? Quindi volete che partecipi al gruppo? Anticipo io le notizie. Perché c'è un tema di responsabilità e di riservatezza su lavori istruttori sui quali non sappiamo come vanno a finire le cose. Quindi c'è proprio un tema di che cavolo di teste ci sono in mezzo a quel gruppo lì, che saranno poche, ma sono delle teste che è bene individuare. Non è un problema politico perché quelli che hanno delle obiezioni politiche me le hanno dette apertamente a voce. C'è qualcuno che ha bisogno di mantenere dei rapporti privilegiati con la stampa e pensa che questo sia il sistema di fare politica. Mi dispiace no. Mi dispiace no. Questo il sindaco. Le pagine ora del Corriere di Bologna. Una cittadella antimala movida. Dieci container con bistro e bar. Vigilante se cancello notturno. Mero la occupazione virtuosa per riprendersi Piazza Verdi. No alle fioriere, sì ai cartelli. Nuove regole per il pizzaiolo. Chi sparecchia il palazzo con questi cartoni, diciamo così, di pizza da sporto che rimangono alla base di questo palazzo. Sicuramente non è un bello spettacolo. Meschini, perdenti e anche traditori. L'ira di Merola contro i suoi consiglieri. Il sindaco furioso per la fuga di notizie dopo l'incontro sul futuro dell'ex caserma Stamoto. Il tema, lo andiamo a riprendere dalla prima pagina. Strage, zuppi, ferita aperta, ritardi inaccettabili. L'arcivescovo, il mancato risarcimento, la tiene ancora aperta e non fa bene. La sofferenza non viene capita. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione per quanto mi riguarda. Io alla cerimonia ci sarò. Quando sono entrato a Bologna andai a Bocca di Rio alla Casa della Carità e poi in stazione. Fu appunto una delle primissime tappe dell'arcivescovo di Bologna in arrivo in città. Il tema di pagina 7 del Corriere di Bologna è il CRB al passo da Dio. Oggi la chiusura dell'impianto con la protesta del Comitato. La cessione gratuita al Comune e il nodo di chi coprirà le perdite. Ecco tutti i numeri del bilancio. Si va poi a parlare del tecnopolo fermo. L'epida punta le officine. La società lascia viale Aldomore trasloca alle minganti in attesa dei lavori all'ex manifattura. Post al veleno Faide, Favia depone in aula. Dietro c'era Bugani, imputato per diffamazione, un ex del Movimento 5 Stelle. Vorrei portarvi anche direttamente, che siamo sul Corriere di Bologna, alle pagine dopo quelle pubblicitarie relative anche a tanti appuntamenti. Arriviamo al tema basket con il successo della Virtus, la voce del padrone. Al Paladozza la Segafreddo conquista anche la seconda partita controllando sempre il gioco. Bene Lozon, colpo all'anca per Ume. Ravenna non regge l'urto. Serie sul 2-0. Venerdì gara 3 in quel di Ravenna. Potrebbe essere già decisiva per il passaggio alla finalissima. Trieste salta, la fortitudo si mette i cerotti. Stasera gara 2 senza Cinciarini, recupero sperato per sabato. I Giuliani travolgenti per atletismo. Davvero la forma fisica ha impressionato. Alleanza Macron-Bologna a settembre nuovo store in pieno centro storico. Pavanello una location prestigiosa gestita direttamente. L'ologramma sui prodotti meglio usarlo. Noi lo facciamo. Destro lascia il suo allenatore. De Maio e Gonzales la difesa è fatta con i due centrali. Sebastian De Maio e Giancarlo Gonzales sono i due difensori sui quali Bologna sta lavorando. Entrambe le operazioni sembrano fattibili. Ovviamente il condizionale nelle varie operazioni di mercato. Tra un istante nelle pagine interne di Repubblica ma prima torniamo alla presentazione ieri in rettorato del libro dal titolo 70 anni di storia del CUS Bologna. L'autore è Alessandro Gallo che naturalmente abbiamo intervistato. 70 anni di CUS come si festeggiano? Si festeggiano con una pubblicazione che intende ripercorrere appunto questi 70 anni di vita attraverso aneddoti, attraverso ricordi, attraverso ricostruzioni, attraverso tante immagini, le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze che si sono succedute in tutti questi anni. È una storia credo carina, da godere e ha anche un fine benefico perché il libro sarà messo in vendita con offerta libera e il tutto sarà devoluto a favore della FANEP. Ci dice com'è nata questa istituzione? Il CUS Bologna nasce nel 1946, nasce a livello prima italiano poi ovviamente a livello bolognese. C'era l'esigenza di creare una struttura che avesse la possibilità di offrire agli studenti e di fare sport e dal 1946 il CUS Bologna è uno dei primi che si forma, si consolida ed è arrivato fino ai giorni nostri. Prospettive future? Prospettive future sono quelle sempre di offrire sport agli studenti e cercando anche di ottenere buoni risultati perché al di là dell'aspetto accademico del CUS Bologna ci sono stati risultati importanti come scudetti, campionati del mondo nell'arrampicata sportiva, nell'ultimo fine settimana ci sono stati due titoli nell'Ultimate Frisbee, un centro sportivo che è sempre diciamo così all'avanguardia per quello che riguarda anche la scelta dei nuovi sport. Pagini di Frisbee, ora in primo piano, ultimo tentativo, Mero l'attacca alla zona franca, Cibo, Culture e Vigilantes, dal 15 giugno progetto con 10 container in via del Guasto e Largo Respighi, i comitati però sono contro, Sisti dice sarà un bagno di sangue e Ciavatti dice così non va. Stop alle feste fracassone, si va a parlare delle feste di laurea, arriva il laurea dei collettivo, articolo di L'Aria Venturi, a Venezia lanciano il tocco in aria in piazza San Marco, a Bologna la location non sarà così suggestiva ma anche qui nel complesso delle aule al Navile e di via Belmeloro i laureati triennali di tutti i corsi, circa 6.000 all'anno, saranno proclamati dottori con una cerimonia collettiva per evitare appunto diciamo così il fracasso dei vari festeggiamenti distinti. Le frontiere della sanità, se ne parla alle pagine 4 e 5, il mare, il prato, le giraffe, l'ospedale immaginato dai bimbi di oncologia, il disegno come forma di terapia, Sant'Orsola e Ageop raccolgono i progetti realizzati dai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Compagni, maestre e un robot in reparto ci riprendiamo Nichi, la classe in visita all'amico di 7 anni. Il 2 agosto di Monsignor Zuppi sui risarcimenti e ritardi inaccettabili il Vescovo presenta l'Assemblea Diocesana dell'Otto, San Petronio aperta a tutti come una piazza come abbiamo sentito in precedenza. Unioni civili sotto le torri sono 86 ogni 500 matrimoni, i dati sono relativi al periodo dal 1 agosto 2016 e al 30 maggio di quest'anno. Bambi sfrattati da un giardino di San Mamolo, due caprioli scesi dalle colline sono stati recuperati ieri mattina dalla polizia provinciale in una villa e sono stati riportati in una zona boschiva, diciamo così decisamente più opportuna in termini di habitat. Lo sport, Donadoni studia da manager e così avrà a destro tutto per se. E poi per quanto riguarda il basket, la Virtus corre Ravenna KO, Lawson Super, finale a un passo, nel secondo quarto a lungo chiave, Gentile e Spissu d'applausi 83 a 74. Boniccioli, qui si va a parlare della partita di questa sera a Trieste, Boniccioli fa l'appello così non ci siamo da Ruzzi a italiano, ora diamo tutti di più. Trieste e Fortitudo, gara due questa sera a partire dalle ore 20. Le pagine sportive del quotidiano nazionale, saltiamo gli altri temi extra Bologna, diciamo così, per arrivare a Verdi e suoi fratelli, ecco il futuro, l'azzurro di Francesco, Masina e Noggi sono i giovani su cui la società punta per crescere e per quanto riguarda il mercato vero e proprio, la difesa è da sistemare, c'è anche l'idea Caldirola in cerca di un rilancio dopo l'avventura in Bundesliga, Luca Caldirola 26 anni con la maglia del Werder Bremen in questa fotografia. Poi il basket, la Virtus ha trovato un ritmo da finale, Ravenna si arrende alla distanza, venerdì a Forlì la Vunera può già chiudere i conti, Ramagli non si accontenta, parla di troppi rischi, dobbiamo essere più cinici e mantenere l'attenzione fino alla fine. Poi ci sono tutte le pagelle relative alla partita di ieri sera. Guardando ad oggi, Fortitudo c'è Marchetti per rimettersi in corsa, Cinciarini non ce la fa, tocca all'altro play. Il motociclismo in questo caso, ottimismo vale, domani è già al Mugello, farà le prove ma per correre serve il nulla osta della commissione medica, quindi sarà le prove ma non è detto che possa avere la possibilità anche di correre. Tornando alla presentazione del libro di ieri in rettorato, che cosa rappresenta il CUS per l'Università di Bologna, ce l'ha detto Giacomo Calzolari che è delegato per le attività sportive dell'Ateneo proprio di Bologna. L'intervista in questo caso della nostra Elisa Orlandi. Il CUS rappresenta un'esperienza, come appunto sappiamo, di 70 anni, capacità di gestire lo sport universitario assieme all'Ateneo di Bologna e quindi la capacità di fornire agli studenti universitari dell'Ateneo i servizi sportivi che sono oggi un complemento fondamentale dell'attività formativa universitaria. Quanti ragazzi coinvolge? Sono diverse migliaia di studenti su tutte le sedi dell'Ateneo, quindi su tutti i campus, nei vari impianti dell'Ateneo di Bologna e in tutte le attività che il CUS organizza anche altrove. In che direzione sta andando questa istituzione? I rapporti con l'Ateneo sono ottimi, sono in un ottimo stato e l'idea è quella di immaginare per il futuro delle nuove modalità che coinvolgano anche direttamente gli studenti universitari, non solo come fruitori di servizi sportivi ma anche come organizzatori delle loro attività sportive in modo che si confrontino anche con la gestione e la difficoltà dell'organizzazione dello sport. Cosa rappresenta lo sport per uno studente universitario? Come dicevo è sicuramente una parte dell'attività formativa, oggi parliamo tanto di soft skills, quindi di competenze trasversali e saper gestire il proprio tempo per le attività sportive significa riuscire anche a gestire le proprie attività professionali, quindi è un complemento fondamentale dell'attività formativa per gli studenti universitari. Bene, diamo la linea alla regia adesso per la pubblicità, saremo velocissimi al rientro in studio, state con noi.